Dov'è il pollice? Dov'è il pollice? Sono qua, sono qua. Come stai quest'oggi? Molto bene, grazie. Scappo via a casa mia. Dov'è l'indice? Dov'è l'indice? Sono qua, sono qua. Come stai quest'oggi? Molto bene, grazie. Scappo via a casa mia. Dov'è il medio? Dov'è il medio? Sono qua, sono qua. Come stai quest'oggi? Molto bene, grazie. Scappo via a casa mia. Dov'è l'anulare? Dov'è l'anulare? Sono qua, sono qua. Come stai quest'oggi? Molto bene, grazie. Scappo via a casa mia. Dov'è il mignolo? Dov'è il mignolo? Sono qua, sono qua. Come stai quest'oggi? Molto bene, grazie. Scappo via a casa mia. Dov'è il mignolo? Dov'è il mignolo? Sono qua, sono qua. Come stai quest'oggi? Molto bene, grazie. Scappo via a casa mia. Dov'è la mia mano? Dov'è la mia mano? Sono qua, sono qua. Come stai quest'oggi? Molto bene, grazie. Scappo via a casa mia. Scappo via a casa mia. Grazie a tutti.